Ciao Tresci, ciao! Bacini! Salve a tutti i nostri affezionatissimi e rari amici e sono qui oggi per augurarvi una buona e serena Pasqua, anche perché diciamocelo ragazzi, con questo periodo di Covid e così via, purtroppo ci è impossibile ritrovarci tutti insieme per abbracciarsi e augurarsi delle buone vacanze. Comunque, in ogni caso, noi lo possiamo fare così, a distanza, perché a distanza riusciamo comunque a essere vicini. E quindi con questo che altro posso dirvi ragazzi, se non una buona e serena Pasqua? Mi raccomando, siate felici! Ciao a tutti, sono Limpia, membro orgoglioso dei Day Youtubers. Il mio canale invece è NormalitàCercasi91, quindi se volete passare mi fate piacere. Sono molto contenta di essere in questo gruppo, che per me è una seconda famiglia virtuale, quindi ringrazio Antonio e Luigi per avermi inserita. Saluto tutti i miei colleghi di Day Youtubers e gli auguro buona Pasqua con questa deliziosa capretta. E auguro buona Pasqua anche a tutti voi, mi raccomando continuate a sentirci e anche se non è un periodo proprio ideale per festeggiare, vi auguro comunque che trascorriate la Pasqua in modo sereno, in modo allegro, con i vostri cari per quanto è possibile. Quindi vi auguro tantissimo, buona Pasqua, buona Pasquetta, io volevo andare a fare la grigliata, non mi è mai piaciuta la grigliata. Adesso che voglio fare la grigliata sono tre anni che non la posso fare, quindi salutoni da me, dalla capretta. Ciao, tanti auguri. Buona Pasqua e buona Pasquetta a tutti, da Day Youtubers. Auguri e buona Pasqua a tutti gli affezionatissimi. Buona Pasqua a tutti. Salve a tutti, io sono qui in gloria di Day Youtubers e sono qui per augurarvi buona Pasqua e buona Pasquetta. E ricordate di lavare il bagno e la cula. Grazie. Ciao a tutti amici dal vostro QJ, vi auguro una serena Pasqua, mi raccomando, siate responsabili sempre, visto che siamo ancora in periodo di restrizioni. Ciao a tutti. Salve a tutti, ho nostri affezionatissimi e rari amici e benvenuti a questo nuovo messaggio augurale da parte di Zia Teleprendi e del team Day Youtubers. Vi volevamo augurare una serena e una buona Pasqua. Ricordatevi sempre di tenere il bagno pulito e di dire la paroletta magica. E qual è la paroletta magica? Per favore. Salve a tutti, ho nostri affezionatissimi e rari amici e benvenuti a questo nuovo episodio pre-Pasquale dei Day Youtubers, cioè che viene prima di Pasquale. Quindi, volevamo augurarvi una buona pre-Pasqualanza e non mangiate troppo Pasquale. Mi raccomando, soprattutto, ve lo dice anche Sheldon, ricordatevi di tenere sempre il bagno pulito e di dire la paroletta magica. Ora, che secondo voi, quale potrebbe essere questa paroletta magica? Sheldon, vuoi dirla tu? No, non vuole dirla lui, allora ve la dico io. Per favore. Che se nel mondo dicessimo tutti più volte per favore, le cose andrebbero meglio. Vero Sheldon? Ciao ragazzi. Buona Pasqua dai Day Youtubers. Ciao! E non mangiate troppo cioccolato che vi vedo. No. Salve a tutti i passerottini del vostro Marchetto. Come va? Come state tesorini cari? Vi do un bacino, vi do. I brutti, quel brutto, cattivo, energumero, peloso e brutto del gorillone. Quel provincialotto, si era dimenticato che ci sono anch'io, né dei youtubers. Perché, ah, forse non ve l'ho detto. Della stagione 6 farò parte anch'io del cast. Come dite, non lo sapevate? Ah, neanche il trashy lo sapeva? Ah, vabbè, scherzetto, scherzetto di Pasqua. Comunque, anche il vostro Marchetto voleva farvi gli augurini. Non mangiate troppo le ovette di cioccolatino, perché sennò poi vengono i brufolini e siete brutti. Quindi state attenti, perché sennò vi fa male il pancino. Detto questo, tesorini, io cosa posso raccontarvi? È uscito il mio nuovo disco adesso, da un due settimane. È già primo in classifica, non c'è neanche gusto, perché alla fine è uscito e sono già nella chart mondiale. Ho superato tutti, quindi non c'è neanche gusto a fare i dischini. Perché appena li faccio divento pure in classifica. Comunque, detto questo, tesorini, io vi posso solo augurare buona Pasqua e non mangiate troppo. Vi fa male il pancino, quindi insomma, state attenti. Mi raccomando, mangiate poco cioccolato, perché il cioccolato, se mangiato troppo, fa male il pancino. Ciao tesorini, bacini, ciao ciao, buona Pasqua. Ciao a tutti, tranne che il gorilone, a lui gli deve venire un'indigestione di quelle proprio che deve sboccare fino alla Pasqua dell'anno prossimo. Bruto, provincialotto, energumeno. Sei proprio cattivo, come brutto, brutto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.